Doveva essere una protesta condivisa da tutta la categoria, ma in realtà la partecipazione, almeno nella BAT, è stata praticamente vicina allo zero. Una serata di disobbedienza alle misure contenute nel DPCM con baristi e ristoratori che, sull'onda dell'hashtag IoApro, avrebbero dovuto lasciare aperte le porte dei loro locali e clienti anche dopo le 18, orario dal quale è possibile effettuare i soli servizi a domicilio e da asporto. Un modo per manifestare contro i divieti anti-covid che stanno mettendo in ginocchio il settore. Ma come detto, non l'ha fatto nessuno, o quasi. Tra i pochi che hanno provato ad aderire all'iniziativa, c'è stata una pizzeria di trani, lievito 72, che nei giorni scorsi, attraverso Facebook, aveva invitato i clienti a raggiungere l'attività dalle 18.30 alle 21.45, annunciando di voler continuare ad effettuare il servizio ai tavoli anche dopo l'orario consentito. Ma spegnere subito qualunque tentativo di disobbedienza è arrivata la polizia locale. Ieri abbiamo posto in atto comunque un intervento tale da evitare di elevare sanzioni, l'ho chiesto fortemente che si evitasse perché sarebbe addirittura aggravare una situazione già di per sé difficile, ma al tempo stesso non consentire assolutamente l'apertura di nessun locale perché è una forma di protesta questa che non possiamo assolutamente consentire. Le regole vanno osservate e il compito delle istituzioni è quello di farle osservare. Contrari all'iniziativa, anche l'associazione Confesercenti della BAT, che attraverso il suo presidente si rivolge a tutti i ristoratori affinché facciano appello al buon senso. Fare delle proteste social, diciamo noi da tastieri, le uni da social, su tastiere di vari gruppi Facebook, Whatsapp eccetera eccetera, sono sistemi che non ci appartengono e non ci apparterranno mai, anche perché sono state divulgate tutta una serie di problematiche legate alla disobbedienza di questa tipologia di iniziativa che sono veramente fuorvianti. Non è vero che si prendono semplicemente dei verbali, si prendono non soltanto dei verbali ma si prendono anche chiusure possibili di esercizi commerciali, si possono, si è soggetti anche normativa penale perché andare conto delle norme per l'emergenza sanitaria Covid significa anche possibilità di avere verbali.